Musica We're going to be talking about what you ought to do. In due, I'm going to meet Donald Matheson. He's going to tell us a little bit about the work of the boat. But I suppose I ought to put this on. To say you ought to do something, you would say, followed by whatever it is you have to do. We could go outside. We'll bring a few spots, that shows you so much. Sì, mamma! Sì, mamma! Sì, mamma! Ma che era l'occhio! La mia macchina è stata una città di più. Non ci sono? Perché è che la città di più, non ci sono un baiciolo. Non ci sono! Grazie a tutti. 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 In this program, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.